Oggi inauguriamo questo impianto fotovoltaico, per noi è un momento importante, ci eravamo impegnati per completarlo entro la fine del 2020, ci riusciamo grazie ad un impegno straordinario, un impianto tra i più importanti a livello regionale, siamo molto soddisfatti perché era uno degli elementi che caratterizzavano il nostro piano energetico e il fatto di poterlo realizzare e consentire al nostro centro servizi di coprire una larghissima parte delle proprie esigenze attraverso questo impianto fotovoltaico è molto importante. Devo dire però che questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio dei temi della sostenibilità e dell'attenzione al cambiamento climatico che sono oggetto di grande attenzione da parte del nostro gruppo. Mi ha fatto piacere nelle settimane scorse che un'agenzia internazionale CDP abbia attribuito a B per Unica Banca Italiana il rating A in questo ambito dell'attenzione al cambiamento climatico e all'ambiente e se vogliamo un modo che certifica un percorso che abbiamo iniziato da diversi anni che conferma la grande attenzione per i temi ambientali da parte del nostro gruppo. Grazie. Grazie.